Sono in posizione, i cari sono perditi, sta attento e fa piano, se fai troppo rumore arrivano i droni della Rassaka, ho visto anche una nebrana con l'uniforme della Rassaka, è nascosta da qualche parte. Ho ricevuto, io vado. Allora diamoci da parte, devi raggiungere tutti i teatro, vincolo, che arrivi il caro di Hanako-sama. Ehi, aspetta! Ehi, come te! Fantastico, magnifico, il contrasto tra la massa che ce l'è. Non volevo, ehi, non dovresti nemmeno essere qui. Torna dentro, veloce. Non ci sei quasi, è di fronte a te, sta guardando la folla, non ti vede. E anche se ne accorgerai. Non c'è bisogno di spiegare, signore. Sì, capisco perfettamente. Me ne occuperò personalmente. Affermativo. Attenzione a tutte le unità, attività sospetta nel settore 3G. Il bacone è vicino allo stand di palloncini, occupate. Battuglia, fermi! Battuglia, secondo Riana, la donna è preso, credo sia armata. Controordine, c'è controllo. È solo un binocro. Battuglia, attività, 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 attività. Goro, ho fatto fuori il più vicino. Ora devi salvare il suo pancone vicino alla breccia aperta e prendere la sciasura. Ebbene abbassare lì in cima per la traversata strada. Andatenele tutti a faccuno! Sì, sono! Ando abbassato tutti! Non ci sono sentire impegnati di consigliare la sciaura! Sì, è importante. Oda sta parlando con qualcuno. Di collego, così sentiamo tutti e due. Di nuovo, la sicurezza è ridicola. Non rispetta i nostri standard. Anna Kusama non dovrebbe essere qui. Stai contestando gli ordini di rinnovo. Fa il tuo canso di lavoro. Riccevuta. Passo e chiudo. È come immaginavamo. Oda è qui. Ti contatterò. Se ho delle novità. Riconosco quel bestione. Adam Smasher, bastardo! Il tipo che ti ha ucciso? Tipo? Quello stronzo è a malapena umano. Ma sai che ti dico? Sono felice che sia qui. Sei felice? Visto che mi sono risvegliato in un mondo dove non c'è saburo, mi dovrò accontentare di Smasher. Dovrei accontentarti? Come se a perderci fossi tu! Sì, va bene. Cerca di raggiungere l'area di manutenzione. Da lì puoi arrampicarti. La passerella non sembra molto stabile. Sicuri che Takemura non ti abbia organizzato un piccolo incidente? Merda! Per poco non cado. Attento. Il cinchino ti ha visto. Te l'avevo detto. Il cinchino ti ha visto.